Questa iniziativa è stata sviluppata e realizzata da Enel con il supporto di Help Code. Gli studenti, grazie all'approccio esperienziale, hanno la possibilità di costruire realmente una città dei sogni, una città nella quale costruire uno sviluppo sostenibile, realizzare una soddisfazione dei propri bisogni in modalità sostenibile. La collaborazione con un'azienda come Enel ha un'importanza fondamentale per riuscire a sostenere le scuole, ma soprattutto i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, nel percorso che noi facciamo. Il progetto Evviva la Scuola Labs è stato ricevuto molto bene dagli studenti, è stato articolato in sei appuntamenti da due ore l'uno e penso che gli argomenti trattati durante questo progetto, quindi l'energia, l'elettricità, la sostenibilità, per loro saranno fondamentali. Il volontariato aziendale è un contributo molto rilevante di questo progetto perché consente di aggiungere competenze, delle competenze specialistiche e quindi di arricchire questo progetto con un contributo che ciascun collega può mettere a disposizione dei ragazzi nella costruzione di quella che è la loro città, la loro smart city dei sogni. Grazie.